Il colpo Il colpo Non è che si è espresso il carattere qua Vabbè Cambia cellulare E' strano il comportamento Amura Vedi che Amura non vuole che noi indaghiamo Quindi lui in teoria è innocente Però non è innocente Perché sennò non avrebbe fatto questo casino Aveva paura contro la Contro la mafia vera e propria Cioè Non lo so Ma i capelli sembrano quelli Ci conosce tra l'altro Kaito-san è meglio che non torni in ufficio Ok io non ho schiacciato niente Me l'ha fatto lui in automatico Torno all'agenzia Qui siamo a Dietro l'agenzia Ma Amura ci cerca E non viene a cercarci qua Ma può stare Tutto E non lo so Certo No Ma burnano No All'agenzia Siamo a Kiriù qua All'agenzia No All'agenzia Higaši ka? Sempre deve vedere affiliate di Kantojo, sempre dalla famiglia Mazzucane qua Qui Kaito-san erano amici prima che cacciassero Kaito Sono un pochino C'è Bakaga Sembra che mi aveva detto Bakaga Tanto che combattere in questo 5 metri qua deve essere stato difficile C'è il tuo lavoro C'è stato un pochino di Kashina che ci sia un pochino di pesca C'è un pochino che ci sia un pochino di te C'è un pochino che ci sia un pochino di Kaito C'è un pochino di te, non? C'è un pochino di te C'è un pochino di te Vi faccio un pochino di te, Higaši Si C'è un pochino di oggi In questo modo E quindi Stiamo Avete poi dato un'occhiata per Santuari Quel fumetto che vi dicevo O Ikegami come autore Cioè come fumettista Che scarpettine Niki dovrebbe significare Fratello mi dicono Eh? Altro petinamento Eh sì Pare che abbia preso buoni voti Sfinti due guiccia Sfinti due guiccia Sfinti due guiccia Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è un po' difficile. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Oh, sei invidabile, cavolo. Non è invidabile, corre e si sposta. Questa qua. Non è che devo fare la forza qua. Che può essere che Aniki sia fratello? Beh, cura dei suoi amici non è poi così malvagio. Beh, di città. Facciamo un parcheggio. E si è girato. Ok, lo segui. Sì, bravo. Sì, poteva sembrare che voleva sedire anche capo, però... Non sa più senso. Non sa più senso. Ha comprato dei dolci, forse non è così cattivo. In realtà sono parlato, perlomeno... Questo non è un bel posto. Sì. 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 Poi sono irriconoscibili, tra l'altro. Ok. L'ho tenata a discia. Sì. 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 La Sarajò qui Non c'è, c'è un'unice di così Charles Piazza, che c'è la parte del bambino? Travestimento da signorina Ehm Possiamo attravestirci Dai lassù Andiamo Poi dovremmo anche sbloccare le tecniche in realtà E' impossibile, è impossibile Vedi, queste qui sono semplicemente Anche perché siamo immersi nella Nella missione quindi sicuramente risulta Niente qua non dice niente di particolare Vabbè ha aggiunto cosa tipo qua Kunimura, secondo vittima Membro deceduto del clan Chiorei del Kansai Siamo andando a traccia del killer Kunimura è stato trovato morto e privo di entrambi gli occhi E' stato il secondo di essere ucciso in questo modo In base all'indagine della polizia Kunimura ha ricevuto un incarico da Kanae Chan E' quello qua, lo vedevamo da qua Del Koban Wife Appena prima di essere ucciso C'è qualcosa di nuovo su lui Capitano della famiglia La figlia Pur essendo stato processato per l'omicidio di un membro del clan Chiorei E' stato dichiarato innocente grazie al proprio alibi Tuttavia secondo Yagami C'è ancora la possibilità che Amura Abbia preso Prigioniero Kume E lo abbia semplicemente consegnato al vero colpevole Cresta in libertà Il fatto di aver forzato In ogni modo Yagami a smettere di indagare Sulla questione sostiene ultimamente Questa ipotesi E' come se appunto gli avessi dato lui No? Vabbè Più meno il testo è simile Adesso spendiamo un attimo Questa storia del Pugliano andare in Mi devo travestire E' come si fa? Devo andare a comprare vestiti e oggetti Possiamo mettere il materiale Travestimenti Outfit a appustamento Vediamo E siamo come il Superman Clark Kent Siamo irriconoscibili adesso Un distributore di palline a sorpresa Che nostalgia Ne compro uno Vai Un salmone Forse si può mettere nell'ufficio Non lo so Che bei posti Ok qualche E' riconoscibile Guarda Su Gli regala la monettina a lui E' un bravo ragazzo Gli regalo Gli regalino E' un bravo Ecco Edi Ah direi tu non hai banco No Gli regalino Grazie adesso dobbiamo andare là come facciamo a darla indaga sui gassi abbiamo anche per lui no provo a entrare poi la mia tenda soco a ma cos'è non mi riconosci con tuo fratello posso prendersi la panchina scusa ma i gassi non sento un cazzo cioè noi stiamo distruggendo il locale quello non esce a guardare cosa sta succedendo i gassin mi una I a bohì e me ohre o cucinara shei nante ma soco a sottosito no no tumori da. Nani shinkita è davanti il bambino educativo è Ancestà quando chiede l'arrivo a chiedere Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so 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 Mi ha avuto l'ultimo Un anno Il giorno che ha avuto l'arrivo non sappiamo ancora è così retroscena vediamo se adesso ci illumina un po' un anno fa se ha preso la colpa sono i jimusio no toban da kaito sono so da torareta kumi no khani o khan sasga no kai to san e neri giù o tzki tzke lari già d'ossi managatta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti